Pesei, mi chiede che è buono per noi informare al Pueblo adeguatamente per sobre questa situazione nel hospital. Poco dì, stiamo nella nostra mira, con il nostro tinderame di azeta, con il nostro comprenderlo che deve avere anche parte del lavoro, che ci guardano così, che ci indicano, che ci costano, che ci passano, che non è buono. E' questa cosa che non è tutta il mestiere di investigazione, e per contrarrestare la qualità di una frazione di AVP che ha 13 di lanti, che non è tutta l'investigazione che ci propone il proietto di l'ospitala, che ci sta in parte di persecuzione, la persecuzione che il governo non vuole per l'ACI. Signore, la persecuzione, la unica persecuzione che ci guardano l'ACI, è la persecuzione che il governo saliente a l'ACI di la cartera del Pueblo adeguatamente, traendo un mega debito grandissimo, e ora che non di un proietto, se è necessario un proietto per la nostra liberazione, ma anche la costa di avere un proietto di un proietto di più di 42 milioni di florini extra, non sta pagando, senza lo qual è necessario, senza cambiare di operazione, e la systeme di un proietto di un proietto, Novo aqui, den constelazione, novo lo che era Acepta, non sta exigir E il pueblo sta spera di nos Pa porti un' transparencia Verdadero e un' responsabilizzazione Verdadero Na lo qual sta è placa che il pueblo Aqui sta paga, nasce belastin E inversionano con il gobierno E da questa qui, ma sta Un' linea corretta, corre E la linea, ma sta, è linea di transparencia E responsabilizzazione Pesei, non sta trece informazione E la linea, ma sta anche in quadra Di parte di transparencia E anche di traspasso Necessario nel Paese Arruba Arriba lo qual sta situazione Financiera nel nostro Paese E non sta attendo E per cui sta, ho, è necessario Si, ma sta situazione Manera con noi, a trece delante E documentazione Di qual non sta, hai Bota mira, ho, 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 sta, passando E entra, non, tambe E gasto, non, cresciente Ma lo qual sta ampliazione e rinnovazione Di un'hospital Grazie a tutti